Buongiorno, andiamo oggi a risolvere questo problema. Abbiamo un trasformatore monofase, la cui tensione al primario di alimentazione è 230V 50Hz. Questo al secondario del trasformatore viene attaccato un carico, una resistenza di carico da 50Ω. Sul secondario deve esserci una tensione di 100V e suppongo il trasformatore ideale, quindi il rendimento è uguale a 1. Quindi non ci sono perdite all'interno del trasformatore. Inoltre so che il numero di spire del primario sono 400. Voglio andare a calcolare la potenza nominale del trasformatore. Vediamo come procedere. Allora, intanto per prima cosa andiamo a vedere la relazione che è sempre valida per qualsiasi tipo di trasformatore. E quindi che il rapporto tra la tensione del primario e la tensione del secondario è uguale al rapporto tra il numero di spire del primario e il numero di spire del secondario. Questo viene definito rapporto spire. In questo caso andremo subito a ricavare il numero di spire al secondario. Da questa relazione quindi andiamo a ricavare il numero di spire sul secondario. quindi vs fratto vp per np nel primario e viene 174. Questo calcolo al fine di andare a trovare la potenza sul primario non è indispensabile, però lo facciamo lo stesso per vedere il discorso di andare a dimensionare il nostro trasformatore. A questo punto, siccome è un trasformatore ideale, avrò anche che la potenza sul primario è uguale alla potenza che viene trasferita sul secondario. Per andare ad esprimere questa relazione, questa sarà uguale alla tensione sul primario per la corrente sul primario e questa sarà tensione sul secondario per la corrente sul secondario. Ma nel secondario io posso andare a ricavare la corrente conoscendo la tensione e conoscendo il carico, quindi semplicemente con la legge di Ohm avrò vs fratto rc e quindi avrò 100 fratto 50, quindi mi viene 2A. Allora, conoscendo la tensione al secondario e conoscendo la tensione al secondario, posso calcolare la potenza apparente al secondario, quindi andrò a fare vs che è 100 per la corrente che è 2, e quindi avrò 200 volt ampere che è uguale all'es del primario. Ecco qua, questo è un esercizio molto semplice e molto immediato, spero di essere stata chiara, ci vediamo al prossimo svolgimento.